Dobbiamo essere in grado di funzionare come un interruttore. È normale che, come esseri umani, abbiamo dei sentimenti, abbiamo un mood e non siamo degli interruttori on-off. E abbiamo difficoltà a passare dal livello di passione, felicità e spensieratezza a colpire con aggressività. Questo esercizio serve anche a questo. Questo è tutti quanti quelli che facciamo, cioè a farvi ragionare on-off. Sono felice e allegro? Mi devo difendere? Scatta quel livello di mood lì. Immaginate una persona che, tanti di voi più esperti, hanno fatto con me il corso di riattivazione cardiopolmonare per salvare magari una persona con un arresto cardiaco. Se è una festa e sei felice, c'è una persona che va a terra, che sembra veramente avere bisogno di aiuto, non puoi finire di divertirti. In un istante devi partire con le procedure. Dobbiamo diventare bravi a ragionare come un interruttore. Purtroppo l'aggressione va trattata come una situazione di emergenza. La caratteristica fondamentale della difesa personale che la rende diversa dallo sport, voi sapete quanta esperienza ho nei combattimenti, nell'agonismo, e sapete però che nel contempo, dico, non ha niente o quasi in comune con la difesa personale. La difesa personale è disinibizione nel colpire 99%, cioè non deve passare un'emozione, trapelare nessuna emozione da quando io ho deciso di attaccare a quando attacco. Non devo dare un avviso, nello sport, che è uno scontro molto più alto livello, atleticamente e tecnicamente, però noi sappiamo il giorno, l'ora, il come, il con chi, il luogo. Sappiamo il come sono le regole, il chi è l'avversario, il luogo è il luogo di gara, e così via. Il perché per il titolo, eccetera. Per la strada, noi stiamo camminando per conto nostro, non sappiamo tutte queste informazioni, e in un istante ci cambia la vita. Questo è il fattore sorpresa. Se vogliamo portarlo dalla nostra parte, dobbiamo rispetto all'aggressore rispondere senza dargli nessun avviso, possibilmente, anzi, prima avendogli fatto capire che siamo vittime, e trasformandogli la sua di vita, facendo diventare il nostro, un comportamento imprevisto per lui. Quindi non aggressivi da subito, né paurosi e rimaniamo. Ma quello che trapela da noi, debbiamo averlo totalmente nelle nostre mani. Non c'entra niente con quello che veramente vogliamo fare. Come lo esercitiamo? Proprio come vi ho detto prima, resettandoci ogni volta. Quando riparto, non c'è una preparazione. Devo andare a colpire, non vado in guardia, ma da zero vado a colpire immediatamente. Non c'è nessuna preparazione. Aggressività nei due colpi che date. Non parlo perché è all'inizio. Aggressività. Vi serve digrignate i tenti. Vi serve urlate se non disturbate a casa. Dammi il massimo, Chiara. Dammi il massimo. Buttati a terra. Rialzati. Calci. Pugni. Colpi in gola. Colpi in bocca. Testata. Gomitata. Calcio ai genitali. Calcio al ginocchio. Vuoi imparare a difenderti da aggressioni e prepotenze? Sono Danilo Capuzzi, il presidente della famosa Otsuka Club. Ho lavorato nella sicurezza per ben 11 anni. E sono famoso perché per strada mi sono difeso decine di volte. Vuoi imparare a farlo anche tu? Fai una prova gratis con me. Unisciti ai miei studenti. Clicca il link che trovi nei commenti. Fai una prova gratis con me. Fai una prova gratis con me. Fai una prova gratis con me.